Le Olimpiadi 2026 saranno un'opportunità per la Valtellina? In questo momento non mi pare sia un'opportunità, bisogna farla diventare un'opportunità. Visto considerato che siamo obbligati a organizzarle perché nessuno può organizzarle, perché in tutti i paesi che si erano candidati poi hanno fatto il referendum locale e la gente ha preferito destinare questi soldi ad altre cose piuttosto che a fare l'Olimpiadi, perché l'Olimpiadi infine costa. Noi ci troveremo a dover organizzare le Olimpiadi, ma allora visto e considerato che abbiamo tutto il tempo, abbiamo circa 8 anni, 7-8 anni, mettiamo un bel piano turistico sulla Valtellina, perché le Olimpiadi in sé per sé è una serie di gare, fine a se stessi. Sono Olimpiadi abbastanza disperse, non sono identificate in una singola località. E la mia preoccupazione è anche questa, che alla fin fine escono le Olimpiadi di Cortina da un pezzo. Visto e considerato che tra i due marchi Milano ha una notorietà, è un'immagine enorme per quanto riguarda la finanza, per quanto riguarda i commerci, eccetera. Ma Cortina ha l'immagine, la notorietà come posto turistico. Di conseguenza penso che l'interesse si sposterà su Cortina. Non vorrei dopo che, visto e considerato che la stragrande maggioranza delle gare alla fin fine si fanno in tre province del Veneto, del Triveneto diciamo, vengono fuori le Olimpiadi in Milano-Dolomiti. E allora come fare a spostare un pochino il baricentro verso di noi? La Valteria in questo momento ha bisogno come il pane di essere sviluppata turisticamente, risviluppata turisticamente. Livigno no, perché in un certo momento, con un milione e cinquecento mila presenze turistiche in un anno, è di gran lungo la stazione turistica valterinese più forte. Poi c'è Bormio, che scarchiglia già un po' in termini di prezzi. Il resto della Valteria non c'è più, quasi turisticamente. E quindi, se vogliamo veramente che le Olimpiadi facciano qualche cosa, facciamo un'indagine, cerchiamo di capire, prima, se i valterinesi le vogliono. Al di là del fatto che possono portare la strada o la ferrovia o la cosa del genere, cosa che io dubito, perché se ci sono 350 milioni da spendere, con 350 milioni da spendere non è che si facciano tante cose, no? In secondo luogo, la volontà anche degli imprenditori di buttarsi in questa operazione. Non ho visto imprenditori turistici animati da grande spirito di collaborazione. Perché proprio quando arriverà il momento delle Olimpiadi, avremo un mese, il mese di febbraio del 2026, con Bormio e Livigno bloccati da un punto di vista turistico, gli altri spereranno di raccogliere qualche scarto, qualche tipo di opportunità. Alla fine tutti, in questo momento, mi pare che sono d'accordo per le Olimpiadi, ma quando gli chiedi a cosa servono, non ti sanno rispondere. Ma a cosa servono le Olimpiadi? In questo momento sono troppo gigantesche, sono troppo grandi e quindi non come 40 anni fa, in cui tu potevi fare le Olimpiadi anche in una piccola città, potevi farle anche a Cortina, potevi farle a Isbruck, relativamente grande. Adesso per fare le Olimpiadi devi farle su più territori, quindi viene meno anche lo spirito olimpico, perché le specialità si sono più che raddoppiate.